31 istituti scolastici siciliani, 5 di questi di Gela, potranno ricevere device e dotazioni informatiche grazie all'iniziativa lanciata dal Movimento 5 Stelle che nei mesi scorsi ha messo in campo circa un milione di euro ricavato dalle restituzioni delle indennità dei parlamentari per l'acquisto di strumenti digitali per le scuole. Un'idea che nasce dalle polemiche sul bonus informatico di 5.000 euro assegnato ai parlamentari nazionali nel Natale dello scorso anno e che i grillini con l'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte in testa hanno deciso di utilizzare per l'iniziativa Fare Scuola Digitale. E così mentre la presidente Meloni dispone di accorpare gli istituti scolastici soprattutto del sud i grillini hanno investito circa un milione di euro messi a disposizione a circa 200 scuole pubbliche per acquistare dotazioni informatiche per rendere più moderne le scuole selezionate sulla base dei progetti che gli stessi istituti hanno presentato. In questi giorni così 198 scuole in tutta Italia stanno ricevendo circa 1700 computer portatili. In Sicilia sono 31 gli istituti il cui progetto ha avuto un esito positivo e vanno da Trapani ad Acate, da Messina e fino a Gela. Un bel segnale concreto di attenzione agli studenti secondo il senatore Pietro Lorefice. Noi da sempre diciamo che non è possibile fare scuola di qualità con le cosiddette classi pollaio. Invece chi pur di ridurre tra virgolette le risorse per che cosa? Per l'istruzione, per la sanità. Cioè i comparti più importanti di una nazione vengono penalizzati per fare cassa e fare altro. Noi abbiamo un'altra visione, un'altra idea di paese. Per noi investire in cultura, istruzione, sanità è fondamentale. E anche nel digitale perché non è che bisogna soltanto fare proclami. Con i fatti noi restituiamo un milione di euro e li abbiamo messi a disposizione di tutte le scuole d'Italia. E per fortuna anche in Sicilia abbiamo avuto un grande riscontro perché tantissime scuole siciliane hanno ottenuto i tablet, i computer portatili che potranno utilizzare per le attività didattiche. Ma anche da mettere a disposizione di quegli alunni che non hanno condizioni economiche che gli permettono di averne uno personale. Cinque gli istituti cittadini che nei prossimi giorni riceveranno i supporti informatici. L'istituto comprensivo Don Bosco, l'istituto comprensivo Gela Butera, l'istituto comprensivo Giovanni Verga, l'istituto comprensivo statale Salvatore Quasimodo, il liceo scientifico e linguistico Elio Vittorini. Quando è uscito quel bando mi sono preso la briga come faccio spesso perché ho una mailing list con tutte le scuole del mio collegio elettorale. Ho mandato le mail a tutti, compreso le scuole gelesi, oltre ai referenti con le quali ho rapporti da oltre vent'anni e i riscontri si sono visti. Non a caso Gela è una delle città che ha avuto maggiori riscontri a livello nazionale con cinque scuole, ma anche la Sicilia tutta, perché noi ribadiamo e con azioni concrete investiamo e continueremo a investire.